Un impianto, quello scistico di Prato Selva, che non ripartirà come è successo negli ultimi due anni. Fra le altre cose non c'è nemmeno la volontà da parte della provincia che ha dismesso la strada dallo spazzamento della neve, la strada che da Fanadriano porta a Prato Selva. Sappiamo bene che l'economia di Fanadriano, di Prato Selva e dei paesi interni oggi si regge principalmente sulle attività turistiche. È assolutamente fondamentale far ripartire gli impianti di Prato Selva, quindi l'appello che lanciamo alla provincia di essere a fianco al comune di Fanadriano perché la regione Abruzzo ha stanziato 200 mila euro e se entro il 31 dicembre questi soldi non saranno spesi per far ripartire gli impianti, quindi l'importante è che la provincia definisca la gestione e quindi far ripartire gli impianti se no si perderanno anche i finanziamenti necessari per rimettere in moto la macchina. Poi la macchina una volta messa in moto deve essere gestita e la gestione è ancora più importante soprattutto perché Prato Selva è una stazione scistica importante ma lo è anche per il turismo estivo. Grazie a tutti.